Qui ad Expo Milano 2015 scatta Piemonte Experience, una serie di iniziative per valorizzare e far conoscere a tutto il mondo il made in Piemonte che passa dalle aziende, dai prodotti di punta dell'enogastronomia e dall'inventiva dei piemontesi che si sanno portare con successo su tutti i mercati mondiali. Una settimana di incontri che vedranno la presenza qui ad Expo di moltissime realtà che operano sul territorio piemontese, votate però verso i mercati di tutto il globo. Assessore Parigi, al via la settimana, la prima settimana che Expo dedica al Piemonte, il Piemonte Experience protagonista. Ci racconti innanzitutto questo spazio nato in una zona importante del Decumano, siamo a ridosso di Padiglione Italia. Come è stato organizzato? È uno spazio a rotazione dedicato alle regioni italiane e naturalmente adesso ci siamo noi, abbiamo portato le nostre bellezze territoriali di cui tra l'altro il Piemonte ha la caratteristica della varietà, non tutti hanno tutta questa varietà perché noi abbiamo appunto dalla neve, dai nostri paesaggi vitivinicoli, al paesaggio lacustre, quindi alle città d'arte, quindi veramente tantissima varietà. Naturalmente poi dentro Padiglione Italia collegheremo questi paesaggi anche con realtà produttive e eccellenze nell'innovazione, quindi questa duplice capacità che da un lato appunto riguarda l'evoluzione artigianale, ma anche la capacità innovativa legata per esempio all'alimentazione, quindi avremo una serie di convegni per esempio legati a questo tema e poi presenteremo naturalmente tutti i nostri territori. Ferruccio Dardanello, il Piemonte è protagonista in questa settimana ad Expo, Union Camere naturalmente è presente, ma qual è il binomio industria, turismo e dunque macchina funzionante per l'impresa italiana? Il turismo sempre di più e la cultura stanno diventando elementi importanti del nostro paese, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto sottovalutiamo l'importanza di questo settore, qualcuno dice erroneamente che la cultura non si mangia, ma la cultura invece oggi è uno degli elementi catalizzatori io credo dell'interesse del mondo nel nostro paese, perché dietro la cultura e dietro il turismo e la valorizzazione di territori c'è il meglio, io credo, della nostra proposta e di questo fascino, di questa Italia delle meraviglie che tutto il mondo ci invidia. Ecco, noi oggi aggiungiamo alla proposta già straordinaria che questo nostro Piemonte sa mettere in campo anche un nuovo progetto, si chiama Made in Piemonte, ecco dove si è prodotta, dove è nata, dove si è costruita tutta questa qualità del Piemonte che poi ha invaso il mondo e che sta oggi diventando uno degli elementi più importanti io credo della nostra credibilità. E oggi poter presentare anche questo progetto in questo contenitore straordinario dell'Expo è un motivo per noi di grande opportunità e anche di orgoglio per poter dire, ecco oltre ai laghi, le nostre montagne, la cultura, i nostri grandi santuari, le nostre città d'arte, bene, c'è anche questi grandi contenitori che hanno prodotto quel Made in Piemonte che oggi è vincente sul mercato globale, quindi un motivo di orgoglio e una grande opportunità. Uno dei simboli del fare impresa in Piemonte sicuramente, ma quali sono le carte vincenti che permettono di avere successo? Beh, la fantasia, quindi il saper fare, ne parlavamo prima, e poi in questo caso veramente pensare a dover approcciare il mondo con determinate specificità interne al di là della credibilità pura, quindi ci vuole ovviamente un'organizzazione importante, grande preparazione, ma pensare veramente al mondo. Il Piemonte che guarda al mondo, qui da Expo, come lo sta vivendo? E' molto bene, cioè è una regione che obiettivamente, se prendiamo un punto importante, dall'Olimpia Invernale in poi ha cambiato radicalmente l'approccio col mondo e la stessa sua percezione dal mondo, per cui abbiamo tutte le carte, basta solo lavorare bene ed essere integrati col sistema Italia e Regione Piemonte. Lo stile, il saper fare con classe del Piemonte vince? Sì, le capacità che abbiamo in tutti i settori che possiamo immaginare in Piemonte sono uniche, io giro il mondo, lo vedo, c'è una richiesta di approccio ai nostri confronti e anche della nostra regione veramente unica e ultimamente, ormai è soddato da qualche anno, al di là delle capacità stilistiche che noi ovviamente affrontiamo, sentiamo che c'è curiosità, c'è volontà di venire in Piemonte per noi, per quanto riguarda i nostri clienti, ma anche per visitare. In Piemonte manca solo il mare, poi abbiamo veramente tutto e bellissimo. Siamo un po' conservativi nel farlo sapere agli altri, quindi queste attività in un contesto come l'Expo devono solo far sapere quanto di bello e di buono noi abbiamo, quindi ne sono più che mai lieta. Giustamente, come è stato detto al convegno, abbiamo bisogno di uscire un po' dai nostri confini, quindi di ampliare le relazioni con Tour Operator, di creare associazionismo di paesi, di province, di nazioni, di continenti in modo che il turismo sia interscambiabile e quindi per chi ama il vino, vivere il Piemonte come può essere il vino toscano non dovrebbero esserci troppi campanilismi, perché poi ogni vino è identità di un territorio, un viaggio in una regione, espressione della personalità di un produttore, quindi ce n'è per tutti veramente. Le cose funzionano. Fabrizio Greppi della Riseria Greppi, tra le tante eccellenze di questo progetto made in Piemonte non si può non parlare di riso. Innanzitutto, la vostra esperienza qui ad Expo, come state vivendo questo progetto che porta il Piemonte dell'impresa a tutto il mondo? L'iniziativa, come dicevo prima, durante il convegno è stata un'ottima iniziativa e questo va dato atto a chi l'ha voluto, Union Camer, Regione, ATL e quant'altro. Fa conoscere ai tanti che purtroppo non conoscono ancora quanto c'è di bello in Piemonte, e io parlo da Vercellesi a Vercelli, il mondo dell'acqua, del riso, della risaia, della trasformazione del riso, fa conoscere a tanti che quando si parla di riso quasi è un prodotto sconosciuto e quando vengono da noi appunto a fare queste visite in azienda dove noi raccontiamo la storia e possiamo farlo perché la nostra azienda parte dalla risaia, quindi dal campo dove si semina riso fino alla trasformazione, al confezionamento e si fa vedere agli adulti ma soprattutto anche ai ragazzini, ai bambini perché noi accogliamo anche tante scolaresche che appunto ci chiedono come avviene il processo di coltivazione e di trasformazione, rimangono esterrefatti. Poi quando ci addentriamo nel campo delle acque e della gestione delle acque, dei canali, il canale Cavour che è il canale principe del Piemonte scoprono un mondo del tutto assolutamente sconosciuto e concludiamo nell'agriturismo con la degustazione del nostro riso e da qualche anno abbiamo rilevato una cantina del bellissimo Monferrato che noi abitiamo a Crescentino quindi siamo proprio ai confini del Monferrato diciamo sempre che il riso nasce nell'acqua ma muore nel vino con un buon vino e quindi questo ci rende orgogliosi di essere vercellesi e piemontesi e alla fine comunque italiani. Dottor Roberto Strucco è responsabile area progetti e sviluppo del territorio di Union Camere Piemonte. Ha lei il ruolo anche di fare un primo bilancio di questa presenza del Piemonte con il progetto Made in Piemonte. Di che tipo di attività stiamo parlando e soprattutto quali sono le prospettive? Un'attività che coinvolge le imprese, che dà una mano anche alle imprese e soprattutto dà una mano anche per l'offerta turistica della nostra regione che è già molto ricca per tanti altri rispetti e vogliamo arricchirla ancora di più con l'offerta della visita d'impresa. In visita d'impresa il turista può organizzarsi o può organizzare attraverso l'aiuto delle ATL una propria esperienza all'interno del mondo imprenditoriale piemontese che come sappiamo è molto ricco e vasto. Ci sono stati anche dei tour educational che hanno portato le imprese, anche estere, i buyer a vedere il Piemonte. Quali sono i punti di forza in questo momento di questo particolare tipo di turismo? Beh, innanzitutto l'enogastronomia. L'enogastronomia al Piemonte oltre ad essere un punto di forza è anche un volano di attrattività molto importante. Pertanto i buyer sono interessati soprattutto a quel tipo di offerta imprenditoriale, ma anche per esempio il tessile di eccellenza è sicuramente molto interessante per un buyer straniero. Momenti clou, momenti importantissimi di questa settimana nella quale il Piemonte è protagonista ad Expo sono i B2B, ovvero incontri diretti, domanda e offerta. Gli imprenditori del turismo e dell'enogastronomia piemontese incontrano i buyers, ovvero gli acquirenti provenienti da ogni parte del mondo. Si svolge il tutto sulla terrazza Cicterio. Andiamo a salire proprio lì a vedere cosa sta succedendo. Siamo con Angelo Feltrin che appartiene al CEIP, la Piemonte Agency, così come è conosciuta in tutto il mondo, un ente che si occupa proprio di questo, portare le imprese all'estero. Ci racconti Feltrin cosa sta succedendo? Ma questa è la parte, come ha detto giustamente lei, di business, nel senso che sotto dove si sta tenendo il convegno ovviamente parliamo di massimi sistemi, di tutto quello che rappresenta in questo momento il turismo industriale, non soltanto per la nostra regione ma ovviamente per l'Italia, per l'Europa, per tutto il mondo, diciamo. È molto aperto, difatti è un convegno internazionale. Qui invece facciamo la realtà, quindi cerchiamo di vendere il prodotto dove non c'è di crearlo. È un incontro, quello che state vedendo, di operatori stranieri con gli operatori nostri piemontesi ovviamente, perché noi lavoriamo ovviamente per la regione Piemonte. Quindi questi signori che sono venuti già sul territorio da due giorni hanno fatto un educational tour, hanno visto il territorio, hanno visto le aziende, quelle che sono quota parte di questo progetto Made in Piemonte, e quindi quelle che hanno aperto le proprie porte per far visitare le loro strutture. Perché no? Perché c'è questo estremo interesse, ma devo dirvi un pubblico veramente molto variegato. Non è soltanto, a volte si pensa allo studioso che è interessato a capire come funziona. No, devo dire anche magari il consumatore stesso che ha piacere di conoscere come nasce il prodotto che poi magari o acquista per mille motivi o mangia, perché ci sono ovviamente anche aziende del food. Siamo all'Expo dedicato al cibo, quindi diciamo che la parte del leone la fanno un po' ovviamente le aziende del food. Per cui è un pubblico, come dicevo, variegato, c'è veramente molto interesse, molta gente che vuole partecipare. Tour Gourmet è probabilmente il primo tour operator che nel 2001, quindi non cavalcando un'onda, ha deciso di dedicarsi a portare il mondo a casa nostra con l'argomento wine and food. Quindi valorizzando le eccellenze, tradizioni tipiche del Piemonte e di tutte le regioni italiane, che sono effettivamente uno dei grandi must, uno dei grandi attrattori italiani assieme al design. Cosa fate nel concreto? Ci divertiamo. Condividiamo la scoperta di piccoli segreti, di piccoli prodotti, di cultura territoriale, di vita quotidiana dei nostri territori provinciali, regionali, personaggi che non sono abituati alle luci della ribalta, ma che meritano e meriterebbero assolutamente uno spazio significativo perché rappresentano effettivamente la cultura enogastronomica, che è una cultura vera, non è una moda, non è un gioco, che nel nostro paese, nella nostra Italia indubbiamente è variegatissima. Quindi andiamo a scoprire le ricette, i produttori, il perché in un determinato territorio si degusta un piatto e in un altro invece tutt'altra cosa, ci sono dei vini anziché altri, la genesi storica e le combinazioni organolettiche tra territorio e storia. Sono Mariangela Matriciani e sono qui per questa esperienza made in Piemonte e gentilmente sono stata ospitata dalla regione Piemonte per un educational, io lavoro per un tour operator a Perugia e siamo stati ben accolti dalla regione Piemonte, abbiamo saputo qualcosa di più sulle nostre bellezze nella nostra Italia perché molto spesso viaggiamo molto ma conosciamo poco il nostro paese e per me è sempre un piacere perché noi siamo un tour operator in coming quindi accogliamo stranieri nella nostra terra in tutta Italia ed è stato bello vedere con i miei occhi quelle belle zone, adesso sono qui a Expo però sono sincera sono entrata, sono venuta qui e è la mia prima volta e devo fare un bel giro per vedere tutto perché voglio anche testare e assaggiare le bontà a questo giro non solo italiane ma di tutto il mondo. Piemonte ha molto da dire in tutti i settori, questo padiglione ad esempio ne è davvero la testimonianza, si va dal cibo al lusso, ai gioielli, alla grande cultura. Cosa vogliamo dire ai turisti del mondo che arrivano e tra l'altro stanno già visitando proprio nelle prime ore di apertura questo padiglione? I turisti del mondo stanno già arrivando, i nostri numeri sono molto positivi e peraltro oggi è notizia di oggi che la Lonely Planet ci ha messo al sesto posto come interesse e quindi il Piemonte sta lavorando molto bene proprio sulla sua capacità di avere un turismo di qualità perché naturalmente è di questo che noi parliamo c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da scoprire quindi abbiamo solo cominciato a far conoscere il nostro Piemonte perché ci sono ancora tante zone che non hanno ancora sviluppato tutte le loro potenzialità turistiche. E torneremo ancora a parlare di Piemonte, protagonista qui ad Expo Milano 2015, ora rimaniamo in fiera ma varchiamo i confini nazionali, andiamo in Spagna perché la musica di questo stato è stata protagonista per le vie di Expo e poi andremo anche a sentire le voci dei tanti turisti che arrivano qui stanchi alla fine di una lunga giornata a spasso per i padiglioni ma soddisfatti delle meraviglie di questa esposizione universale.